E se non sai Raffellini, te te siga o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà Ciao ragazzi, come state trascorrendo queste vacanze estive? Come state vivendo questa estate 2023? Quest'anno ho pensato di portarvi sul canale un video molto particolare e di consigliarvi 10 film italiani a tema estivo che credo possano rallegrare la vostra estate e tenervi compagnia durante questi mesi, spero di spensieratezza e di allegria Partiamo subito cronologicamente dal 1958 dal film Racconti d'estate per la regia di Gianni Franciolini Un film che definirei estivo per eccellenza, un film che forse non tutti ricorderanno ma che in realtà ha ispirato tante commedie italiane, tanti film italiani che sono poi usciti nei decenni successivi Racconta naturalmente un'estate italiana del 1958, quindi di fine anni 50 ed è ambientato nel golfo del Tigullio in Liguria, vicino Genova per intenderci Il film è strutturato in vari episodi che si intrecciano ma non si incontrano mai ed è un film interpretato da un grande cast che va da Alberto Sordi a Marcello Mastroianni da Silva Coscina a Dorian Gray, quindi anche attrici brave ma soprattutto grandissime bellezze del cinema italiano dell'epoca Franco Fabrizzi, Gabriele Ferzetti, un grande cast ma scritto anche da soggettisti, sceneggiatori, scrittori molto importanti, partiamo da Alberto Moravi, arriviamo allo stesso regista Gianni Franciolini e poi Rodolfo Sonego che è stato lo storico sceneggiatore dei film interpretati da Alberto Sordi anche Sordi in sceneggiatura e poi Ennio Flaiano, Sergio Amidei, insomma una grande squadra per questa commedia italiana che racconta un'estate italiana dell'epoca il mio episodio preferito personalmente è quello interpretato dal grande Alberto Sordi che nel film Veste i panni di Aristarco Battistini, il compagno nonché manager di Ada Gallotti che è una grande cantante lirica che viene accompagnata appunto da Aristarco Battistini in questa vacanza estiva, tutti gli episodi comunque sono carini e godibili ma dal mio punto di vista quello di Sordi ha qualcosa in più. Passiamo poi al 1962, in questo caso non parliamo di un semplice film estivo per cui non è un film che possiamo in qualche modo assimilare agli altri, è qualcosa in più perché stiamo parlando del film Il Sorpasso per la regia di Dino Risi un capolavoro assoluto del maestro Risi, forse il suo più grande film uno dei più grandi film della storia del cinema italiano, una delle più grandi commedie all'italiana in assoluto di cui vi ho parlato anche nel mio format appunto omonimo Commedia all'italiana un film estivo però perché è ambientato durante le vacanze precisamente nel periodo di Ferragosto interpretato da Vittorio Gasman e Jean-Louis Trintignan ed è un film assolutamente eccezionale un capolavoro con uno dei finali più belli della storia del cinema a mio modo di vedere ma anche un film esilarante praticamente dall'inizio alla fine, tolto il finale struggente che trasmette anche tanta atmosfera estiva quindi nonostante sia di un altro livello rispetto a tutti i film che elencherò in questa mia lista che ho stilato per voi è a tutti gli effetti un film estivo che nel periodo di Ferragosto non posso fare a meno di rivedere ogni anno passiamo poi al 1965 sempre per la regia di Dino Risi il film è L'Ombrellone un film forse anche questo come racconti d'estate poco ricordato ma un cal testivo per quanto mi riguarda un film estremamente moderno nonostante sia molto datato interpretato da un grande cast che va da Enrico Maria Salerno a Sandra Milo Lelio Luttazzi anche in veste di attore ma che curò in primis le musiche di questo film il maestro Luttazzi e poi Raffaele Pisu, Leopoldo Trieste la colonna sonora di questo film ovviamente è iconica canzoni tipiche degli anni 60 Il mondo di Jimmy Fontana, Il peperone di Edoardo Vianello Si fa sera di Gianni Morandi, Viva la pappa col pomodoro di Rita Pavone poi come detto tutte le musiche di Lelio Luttazzi un film molto intelligente naturalmente di Dino Risi a suo modo anche una satira sugli anni 60 un film estremamente divertente ma anche molto profondo e malinconico un film estivo che durante questo periodo non posso fare a meno di vedere e rivedere ogni anno facciamo un balzo temporale molto importante arriviamo al 1983 questo film che è uno dei cult estivi principali del cinema italiano è in qualche modo ispirato a racconti d'estate di Gianni Franciolini che già vi ho citato perché non hanno effettivamente punti in comune però i fratelli Vanzina quando scrissero questo film sicuramente pensarono ed ebbero come riferimento la commedia di fine anni 50 che raccontava l'estate ed ecco che torniamo negli anni 60 in un film che esce nel 1983 ma che ha tutti gli effetti una grandissima operazione nostalgia tipicamente nostrane che è Sapore di Mare dei fratelli Vanzina anche in questo caso un grande cast di commedia che va da Gerica La, Christian De Sica, da Marina Suma al Dogui, Guido Nicheli e poi Virna Lisi meravigliosa la sua interpretazione Ugo Bologna, Gianfranco Barra un grande cast la colonna sonora di Sapore di Mare è rimasta iconica tante bellissime canzoni degli anni 60 per poi arrivare a quel finale che definirei iconico ma forse sono riduttivo gli sguardi di Gerica La e Marina Suma sulle note della splendida Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante cosa dire di Sapore di Mare di Ivanzina? nulla, è sicuramente il film estivo per eccellenza e mi ripeto con Ivanzina ho cercato di non essere banale in questa lista però i fratelli Ivanzina ritornano perché nel 1984 uscì nelle sale un altro grandissimo caldo estivo che è Vacanze in America le vacanze di una scuola italiana la scuola cattolica San Crispino di Roma ancora una volta Gerica La Christian De Sica nei panni dello storico Don Buro Claudio Amendola Antonella Interlenghi Edwish Fenech Gianmarco Doniazzi giovanissimo Renato Moretti Fabio Ferrari Fabio Camilli Paolo Baroni grande cast grande cast di commedia anni 80 fu un successo incredibile al botteghino anche in questo caso una colonna sonora fantastica italiana e non solo perché le musiche sono in primis di Manuel De Sica poi passiamo da Terra Promessa di Eros Ramazzotti oppure ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti a Take Me Home di John Denver a I Get Around di The Beach Boys per cui anche in questo caso una colonna sonora bellissima ed è un film non solo esilarante cult ovviamente scene battute che sono rimaste nell'immaginario collettivo ma è anche un film estremamente intelligente che racconta il sogno americano degli italiani dell'epoca che avevano nei loro sogni in mente un'America probabilmente molto diversa di quella che poi effettivamente era l'America e che andando in America naturalmente si scontrarono con una realtà ben diversa da quella che immaginavano un cult assoluto, vacanze in America un film estivo molto molto importante ancora anni 80 Rimini Rimini di Sergio Corbucci siamo nel 1987 un film sicuramente molto più leggero un film comico a tutti gli effetti ma indubbiamente un film che tutti noi ricordiamo un film che poi ha avuto varie versioni cinematografiche, televisive tagliato, ritagliato un film che composto da 5 episodi che non si incontrano mai rappresenta storie assolutamente comiche divertentissime di seduzione imbrogli ambientate nella Rimini estiva di fine anni 80 il cast è assolutamente eccezionale Gia Ricalà in grande forma Paolo Villaggio una bellissima Serena Grande una splendida Laura Antonelli affascinante come sempre Andrea Roncato Eleonora Brigliadori Maurizio Micheli Paolo Bonacelli Silva Coscina Adriano Pappalardo Gigi San Marchi quindi Gigi e Andrea insomma un grande cast una colonna sonora anche in questo caso iconica tante bellissime canzoni dell'epoca un film sicuramente molto leggero molto semplice ma divertentissimo e quindi un cult estivo italiano nostrano che ogni anno non posso fare a meno di rivedere diretto come detto da Sergio Corbucci ma scritto da Mario Amendola Bruno Corbucci lo stesso regista Sergio Corbucci Maurizio Micheli Marco Risi Gianni Romoli Bernardino Zapponi Massimo Franciosa una sceneggiatura molto molto fornita l'anno dopo 1988 arriva una botta di vita per la regia di Enrico Oldoini anche questo credo sia un film molto dimenticato interpretato da Alberto Sordi e Bernard Blier che se ne andò poi l'anno successivo questo grande attore francese protagonista del cinema italiano un film che personalmente porto nel cuore ve ne parlai qualche anno fa in una recensione speciale appunto estiva un film semplice un film genuino che racconta la particolare bizzarra estate di questi due ultra sessantenni di questi due signori non più giovanissimi che si ritrovano soli abbandonati dalle rispettive famiglie a sala bolognese che decidono di darsi ad una botta di vita come lo stesso titolo suggerisce partire per le vacanze andranno poi a Portofino in Costa Azzurra Saint-Tropez insomma una vacanza giovanile per due signori che non sono certamente di primo pelo ma che si sono stancati di essere considerati due vecchi buoni a nulla per cui vivranno questa estate per noi bellissima da vedere in questo film assolutamente amabile e poi naturalmente ve l'ho detto Alberto Sordi e Bernard Blier una coppia fantastica in un film forse dimenticato ma da riscoprire assolutamente 1991 abbronzatissimi di Bruno Gaburro altro cult assoluto di inizio anni 90 che ha tanti punti di contatto con Rimini Rimini Gerry Calà Alba Paglietti sensualissima all'epoca Teo Teocoli Mauro Di Francesco Franco Pini una bellissima Eva Grimaldi Pier Maria Cecchini Natali Candonazzo Renato Cecchetto Il Dogui un grande cast un film divertentissimo anche in questo caso una colonna sonora fantastica tante canzoni tipiche dell'epoca Diavolo in me di zucchero Gloria Gaynor con Can't Take My Eyes Of You Pretty Woman abbronzatissima Osh Carrafone di Pino Daniele La mia banda suona il rock Ciao mamma di giovanotti insomma canzoni veramente fantastiche come lo stesso Rimini Rimini ebbe poi un sequel Rimini Rimini un anno dopo abbronzatissimi due un anno dopo che però uscì due anni dopo non eccezionale entrambi i film sono molto divertenti i primi film ma poi i sequel non tengono testa assolutamente i film di riferimento però anche in questo caso un film che ha dei limiti certamente un film molto leggero non di grandissima ambizione ma che racconta una divertentissima estate di inizio anni 80 e che ogni anno rivedo con immenso piacere grandissimo balzo temporale arriviamo al 2008 qui ho dovuto fare una scelta escludendo un altro film molto simile uscito l'anno successivo e cioè Un'estate ai Caraibi e ho deciso di inserire Un'estate al mare di Carlo Vanzina un film che ho sempre assimilato con l'altro Cineco Comero così definito che uscì l'anno successivo perché i fratelli Vanzina cercarono di portare il cinema di commedia un cinema molto leggero e spensierato nelle sale durante il periodo estivo e ci riuscirono con due film divertenti che incassarono bene in questo caso gli episodi del film sono assestanti non si incontrano mai ma non sono intrecciati come saranno invece in Un'estate ai Caraibi Un'estate al mare presenta episodi assolutamente assestanti che sono Il Conte di Montecristo interpretato da Lino Banfi Sara Cinesca interpretato da Massimo Ceccherini e Alessandro Paci Traffico sulla Pontella con Enrico Brignano e Nancy Brilli L'Isola dell'amore con Biagio Izzo e la bellissima Alena Serredova Il Giovedì con Enzo Salvi ispirato al cult anni 60 di Dino Risi Il Giovedì per l'appunto interpretato dal grande e ingiustamente dimenticato Walter Chiari Extra Large ispirato all'episodio di Sordi di Racconti d'estate che come vi dicevo ha ispirato tanti film poi nei decenni successivi interpretato da Ezio Greggio ma la ciliegina sulla torta di questo film molto carino e divertente è sicuramente l'ultimo episodio La Signora delle Camelie esilarante interpretato dal grandissimo Gigi Proietti che ricordiamo come sempre con immenso amore un film molto divertente forse preferisco addirittura Un'estate ai Caraibi ma ho preferito citarvi in questa lista di 10 titoli estivi italiani da vedere ogni anno Un'estate al mare perché è un film più iconico che credo calzi a pennello con questa mia lista estiva concludiamo con Sotto il sole di Riccione degli Younats scritto anche da Enrico Manzina 2020 ve ne parlai sul canale all'epoca tre estati fa era periodo di covid ed è stato bellissimo quell'estate vedere un film che per un'ora e mezza un'ora e quaranta ci ha permesso di evadere da quella situazione paradossale che stavamo vivendo un'estate dei giorni nostri con i giovani d'oggi le ultime generazioni che si divertono che vivono un'estate all'insegna della spensieratezza dell'amore del divertimento ed è un film assolutamente molto carino che vi consiglio godibile simpatico anche il sequel Sotto il sole di Amalfi ma sicuramente non allo stesso livello questi sono i 10 titoli italiani che quest'anno mi sento di consigliarvi per l'estate 2023 potremmo dire i miei 10 titoli preferiti ma qualche rinuncia come detto ho dovuto farla quindi diciamo che sono 10 titoli che ogni anno rivedo e che vi consiglio assolutamente di vedere quest'estate per godervela pieno perché quello che può dare il cinema anche in un periodo molto semplice e spensierato come l'estate non può darvelo nient'altro ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano buona estate a tutti